Era il luglio del 2000 e una tenda di profughi somali in piazza Duomo scatenò una polemica rovente. Oggi, per quell'episodio, è stata notificata al presidente della comunità somala toscana, Osman Gahl, una cartella esattoriale da 29.000 euro per indebita occupazione di suolo pubblico. Una multa non pagata di 250 euro che si è moltiplicata negli anni. La multa non mi è mai stata notificata, afferma Gahl. Contestualmente alla cartella esattoriale mi è stato notificato anche il fermo amministrativo della mia auto. La tenda delle polemiche venne piantata in piazza Duomo più di 13 anni fa, in occasione di una manifestazione dei profughi somali per chiedere il ricongiungimento dei familiari. Una tenda di musulmani davanti al bel San Giovanni, apriti cielo. Tra i più sdegnati ci fu la scrittrice Oriana Fallaci, già in piena crociata anti-Islam, poi confluita nel suo La rabbia e l'orgoglio. Io non vado a rizzare tende alla Mecca, disse. La cosa paradossale è che la tenda non fu installata dalla comunità somala e men che meno voleva essere una provocazione verso la religione cattolica. Era un pezzo di una manifestazione cui parteciparono in molti per la rivendicazione di diritti, con tanto di espressione di solidarietà del Vescovo. Gahl è già stato in comune, dove gli uffici competenti sostengono che la notifica gli era stata fatta. I vigili urbani invece dicono di no, insomma ora partono i ricorsi. E da parte di qualche politico anche le polemiche. Gahl ringrazi che le nostre istituzioni sono deboli. Non ha mancato di commentare il capogruppo regionale di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli. Un buon sindaco avrebbe chiesto il risarcimento per i danni all'immagine della città.